Prova ad allungare Inizia il contrasto A spazio E il portiere non deve nemmeno Contributo in fase di interdizione Johnson Servirà il miglior Bayern di Monaco per vincere questa gara che si preannuncia molto equilibrati Attenzione Ancora in gioco Hanno visto Pato Giocao Attenzione solo Steven Gerrard è pronto a battere il calcio d'angolo Con la testa Ottima occasione per loro Difesa un po' rigida in questa occasione Pato E il portiere riesce sui piedi Ottima E il pallone entra in rete Il portiere ha pagato cara questa disattenzione Beh Fabio Per certi errori un portiere non se li può permettere Grande penetra Secondo gol Gomez Occasionissima A fondo il contrasto Robben E il tiro E il tiro finisce fuori per la disperazione Affronto al portatore di palla Prova a fermarlo Occasione in vista Occasione in vista Tenta il contrasto Tenta il contrasto Recupera palla grazie a un grande intervento Rete Splendida rete La piazzata con precisione Assoluta Con la palla può fare davvero tutto quello che vuole Passaggio riuscito Pato Zocco Ecco che tenta il tiro Calcio d'angolo Gomez Diaz Sviluppano il gioco Fallo Forse anche intenzionale E viene ammonito Sì Ora l'allenatore Deve decidere Se tenerlo in campo O sostituirlo per sicurezza Indebolendo però la squadra Prova a battere la punta Attenzione Gol Siamo rivenendo il gol Partita riaperta Beppe Beh Manca poco Ma di sicuro ci proveranno Gran palla Che ne faranno Cerca di fermarlo con una scivolata Liberi Tè L'arbitro fisca il fallo Attenzione Era già ammonito E per lui è il secondo giallo La sua gara finisce Per lui è il secondo giallo La sua gara finisce Per lui è il secondo giallo Si è un giallo